Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, una grandissima notizia per tutti voi. Dopo otto bellissimi anni ho deciso di prendere una pausa di Masterchef Italia per seguire la mia passione, quella della musica. Infatti sto anno esco con il mio primo CD in Italia, faccio un tour musicale e sto trattando anche qualche programma televisiva, sempre nella musica. Ma per essere aggiornato su tutte le cose vai su joebastianich.com Ci vediamo presto in televisione o magari su un palco. Ciao ciao a tutti!